Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera Martina Pignatti, direttrice dei programmi della ONG Un Ponte Per, buonasera Luca Telese, giornalista, buonasera Lucio Caraccio, direttore di Limes e buonasera Alessandro De Angelis, direttore di Huffington Post. Allora, giorno 85 della guerra in Ucraina, con Draghi che sulla guerra riferisce in Parlamento e poi a sorpresa, in serata, convoca un consiglio dei ministri, dove dà una bella strigliata ai partiti. Subito dopo la gubistà. Alessandro De Angelis, partiamo dalla politica interna, ovvero da Draghi che stamattina, come sapete, ha riferito in Parlamento sulla guerra in Ucraina, ma poi in serata sorpresa ha convocato un consiglio dei ministri, dove ha strigliato i partiti della sua maggioranza sulla riforma della concorrenza e ha in sostanza messo un out-out, entro fine mese trovano un accordo, sennò lui mette la fiducia. Che mossa è stata questa di Draghi? Che cosa sta succedendo? Una bella strigliata, una grande drammatizzazione, il consiglio dei ministri ha sorpresa, ha parlato lui e poi è chiuso. Sai, una riforma cruciale che è ferma per i veti dei partiti, diciamo... Cruciale, ricordiamolo, per ottenere i soldi del PNRR dall'Europa. Cruciale per ottenere una tranche di finanziamenti, cruciale anche l'altra sul campo che è la delega fiscale e secondo gli analisti la legge sulla concorrenza vale 0,2% di PIL, diciamo. È ferma, quindi lui ha detto o la sbloccate e trovate una soluzione, oppure il governo metterà una fiducia, che è un'evidente forzatura, non è nella prima o nell'ultima, questo governo ha detto una marea di fiducia, tecnicamente non scendo nei dettagli, è una legge delega, quindi è anche molto anomalo mettere la fiducia su una legge delega. Che significa politicamente? Rino Formica avrebbe detto che il quadro politico si sta sfarinando, cioè se non ci fosse la guerra, lo vedi, dossier dopo dossier, non sta più insieme sostanzialmente, lo vediamo. Però voi analisti della politica interna, questo lo dite da mesi e mesi e mesi che il governo si sta sfarinando, il governo è sempre lì e Draghi a un certo punto... Sta lì perché c'è la guerra, io penso che se non ci stesse la guerra sarebbe assai complicata andare avanti, ma i fondamentali del sistema politico, coalizioni sfasciate, tendenza alla campagna di Draghi, sono gli stessi del minuto prima di quando è arrivato Draghi, in questo è stato un anno e mezzo abbastanza buttato, poi non tutti, io non voglio generalizzare, non tutti i partiti sono uguali. Comunque insomma i partiti dopo il Consiglio dei Ministri hanno cominciato anche poi a fare dei distinguo da Forza Italia che dice che è un po' irrituale, un Consiglio dei Ministri così convocato, insomma adesso faranno tutti il loro distinguo, fatto sta Luca Telese che se entro la fine di maggio non trovano un accordo su questo di viale concorrenza viene posta la fiducia e allora più tardi lì sarà il momento della verità. Tu sei d'accordo con Alessandro De Angelis che si sta sfarinando questa maggioranza di governo o diciamo è un po' la solita storia? Beh con De Angelis regaliamo un po' di dialettica perché non sono accordo su nulla, cioè non penso che i problemi complessi si possano risolvere con la fiducia su una legge delega, come dire una fiducia in bianco, risolvili tu. Penso che il Consiglio dei Ministri a dieci minuti sia una buffonata, cioè o si discute oppure non ha senso farlo, allora manda un cablogramma, è una sceneggiata. E l'ultima cosa, il tema concreto di cui si parla, forse non tutti sanno che una sentenza del Consiglio di Stato ha tagliato di dieci anni delle concessioni che erano state date, quindi magari uno che aveva un mutuo adesso inseguito da una banca gli dice ridammi i soldi perché quel mutuo non è più coperto, allora io non vorrei stare nelle mani dei partiti che cedono ai ricatti o ai veti di qualcuno. Ultimissima, il decreto concorrenza, allora io voglio concorrere per una licenza al porto di Ambersa. Però Luca Telese, il Presidente del Consiglio Draghi ha anche precisato che se non rispettiamo, se i partiti non rispettano questa tempistica, sono messi a rischio irrimediabilmente i fondi del PNRR di questa tranche che riguarda questo settore. Quindi stiamo veramente scherzando con il fuoco. Infatti non ha negato il dibattito, lui ha detto mettiamoci una deadline altrimenti metto la fiducia visto che sono quattro mesi che non si trova un compromesso su questi famosi balneari, sta diventando una vicenda grottesca. Comunque, Lucio Caracciolo, ha ragione De Angelis quando dice che sono forse per la guerra questo governo sarebbe già finito. Stamattina il Presidente del Consiglio Draghi ha riferito in Parlamento come è stato chiesto a gran voce da tutti, soprattutto dalla Lega, ma insomma dalle destre, ma noi non solo. È più chiara adesso la linea dell'Italia sulla guerra in Ucraina dopo l'intervento di Draghi o sapevamo già tutto? No, non sapevamo già tutto. Se come dice De Angelis alla fine c'è una sorta di omologia tra il governo e la guerra, questo governo può durare anche dei decenni temo visto l'andamento della guerra. No, la novità credo piuttosto importante per il nostro paese è che per la prima volta l'Italia prende una sua posizione molto articolata con un piano consegnato alle Nazioni Unite in quattro punti che mette l'Italia in un preciso campo all'interno della Nato che è quello dell'Europa occidentale, cioè siamo con i francesi. Quindi un piano per la pace? Un piano per la pace in quattro punti in cui si dice fondamentalmente. Prima di tutto c'è stato il fuoco, poi si inizia il vero e proprio negoziato che dovrebbe portare a una neutralità garantita dell'Ucraina, al mantenimento dei confini preguerra dell'Ucraina, anzi proprio all'interno dello schema della sua indipendenza del 91, quindi con le regioni del Donbass iperautonome ma dentro l'Ucraina e poi addirittura una specie di conferenza paneuropea con dentro tutti quanti Russia compresa. I francesi hanno reagito con entusiasmo a questo piano, gli ucraini direi molto meno. Sarà interessante vedere come si svilupperanno queste reazioni ma è la prima volta che l'Italia mette in maniera piuttosto esplicita in evidenza quello che pensa e questo è già un fatto importante positivo. È d'accordo Martina Pignatti, è importante questo piano di pace presentato dall'Italia e diciamo per una pacifista come lei, è un piano di pace ragionevole e la linea di draghe del suo governo sulla guerra in Ucraina adesso è molto più chiara dopo l'intervento in Parlamento? Allora il piano di pace è sicuramente ragionevole, il problema è l'incoerenza tra quello che ha auspicato ieri Di Maio all'ONU e la postura che ha tenuto Draghi oggi in Parlamento, quindi cosa diciamo ci stupisce? Che si continui nonostante questo piano di pace, questa proposta di pace a inviare armi a un contendente e a scambiarci atti ostili con l'altro contendente, quindi ricordiamo che c'è stata adesso l'espulsione dei 24 diplomatici italiani ma prima noi avevamo espulso 30 diplomatici russi dall'Italia, quindi appunto atti ostili. Dopodiché Draghi oggi si è aggiuito dell'impatto delle sanzioni sull'economia russa, un calo dell'8% del PIL, un aumento dell'inflazione, lui lo citava, che è previsto del 21% in Russia, questo ha un impatto drammatico sul benessere della popolazione russa, non del governo, non degli oligari, questo mi ricorda i 13 anni di embargo contro l'Iraq, periodo in cui un Ponte Per lavorava per costruire ponti di pace con la popolazione irachena, quei 13 anni di embargo non hanno indebolito il consenso della popolazione irachena verso Saddam Hussein. In questo momento gli esperti dicono se noi vogliamo aprire un tavolo di trattative sarà necessario prima attenuare le sanzioni, questo diciamo se vogliamo andare verso un dialogo. Mi scusi, Gracio, è un elemento di pressione che non si può togliere. Sia le armi che le sanzioni su cui si può discutere quanto vogliamo, per carità sono viste non come un bene in sé ma come qualcosa che deve portare alla pace, altrimenti di che cosa stiamo parlando? Senza le armi probabilmente la guerra sarà un'altra Sì, tanti esperti internazionali di peacemaking diplomatici vedono appunto la fattibilità di un tavolo di trattative tramite altre strategie e dopodiché chiudo solo dicendo che anche questo sostegno entusiasta, l'idea di un'adesione dei paesi neutrali alla Nato va contro la fattibilità di una conferenza modello Helsinki che era stata appunto resa possibile dalla presenza di paesi neutrali. Questa neutralità adesso, al di là della libertà per i paesi di scegliere, è stata di fatto resa impossibile dalla Nato che ha costretto i paesi neutrali a scegliere e ha quindi cambiato un po' il profile dell'Europa. L'ha cambiato certamente ma se noi pensiamo che dobbiamo, siccome siamo orientati verso la pace come ovvio che sia, in teoria dovrebbero esserlo tutti, dobbiamo impedire che vi siano delle pressioni su una parte o sull'altra perché dobbiamo fare la pace, allora è inutile parlarne. Voglio dire molto chiaramente che senza soprattutto le armi che sono state date non tanto da noi ma soprattutto dagli americani e britannici la guerra sarebbe finita nel giro di pochi giorni e questo è un fattore credo indiscutibile. Continuando a esportare armi, a regalare armi la guerra continuerà e andremo avanti così. Quindi noi dobbiamo ritirare le armi e gli altri no e così si fa la pace, certo, si può fare. È una pace che si può fare, Alessandro De Angelis, vedevo che non eri d'accordo praticamente su nulla anche perché ricordo che tu hai scritto oggi che in Italia c'è un pacifismo da portafoglio più che da ideologia. Allora, il tema, questa considerazione è evidente che gli italiani non ne possono più, diciamo, della guerra e soprattutto perché ne sentono, dopo due anni di Covid e di evidente crisi sociale, tutto, diciamo, il costo economico. Io lo capisco ed è una cosa che io rispetto, diciamo, questa cosa. Credo per questo, e oggi l'ho scritto perché dicevo che al contrario la classe dirigente dovrebbe avere una postura più pedagogica se il Paese è così, cioè dovrebbe dare appunto il senso di una missione. Tu Paese stai facendo sacrifici perché c'è una causa che noi condividiamo, che è quella della libertà, eccetera, eccetera. In questo ho trovato sinceramente il discorso di Draghi, proprio il minimo sindacale perché è evidente che voleva evitare polemiche dopo tutte le cose di questi giorni, la maggioranza, Conte, Salvini assolutamente deludenti a alcuni interventi, diciamo, in particolare di Conte. Ognuno consigliava oggi una conferenza di pace, erano parole in libertà, parlava al suo elettorato e chiusa là tanto si è capito che non si vota da un messaggio elettorato. Io però in questa discussione, anche sulla Nato, posso dire una cosa, io la trovo davvero irrispettosa della volontà dei popoli. Io sono rimasto molto colpito da questa adesione della Norvegia alla Nato e non capisco chi siamo noi della Finlandia, scusami, della Finlandia, ho sbagliato, scusami, della Finlandia alla Nato. Non capisco chi siamo noi per giudicare e per dire di no. Quando un popolo che è stato neutrale, era neutrale, era ben armato, cioè non è che era... quando c'era l'Unione Sovietica. Si sente minacciato, così minacciato... Criticare si può... Sì, 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 però per carità si può criticare. Ma là lo vuole il grosso della popolazione della Finlandia e 185 parlamentari, c'è stato un dibattito, che è il grosso della maggioranza. Io questo lo vedo come un capolavoro di eterogenesi dei fini di Putin, diciamo, che è riuscito anche, diciamo... Certo, se voleva, diciamo, disgregare la Nato ha ottenuto esattamente il contrario. E lo stesso sulle ombre. Ti do subito la parola a Lucio Caraccio, lo voglio sentire, Luca Telese, perché immagino che tu sia in disaccordo con De Angelis perché tu a tua volta hai scritto che c'è in Italia una intolleranza ideologica verso chiunque non aderisca alla logica delle armi. Assolutamente sì. Ma c'è un dibattito libero in Italia dove ognuno può dire quello che vuole? Sì, il dibattito è libero, però si ribalta sempre il senso delle cose. Cioè c'è una maggioranza degli italiani in tutti i sondaggi che regista contro la guerra. Il mio amico Alessandro De Angelis, che è benissimo, dice ebbè ma bisogna farglielo capire che sbagliano poverini che sono egoisti. No, c'è una logica molto precisa. I più pacifizi sono i capi di Stato maggiore, forse perché conoscono la guerra. Io li devo intervistare uno a settimana. E il tema è questo. Si sta giocando pericolosamente con le armi. E se si aumenta la soglia delle armi utilizzate, se si passa da 100 mila bombe o un milione di bombe, qualunque professore di accademia militare ti dice che il rischio dell'escalation e di un colpo fuori bersaglio aumenta statisticamente. Quindi io dico, viva Dio, che molti italiani, più consapevolmente degli stranamore che vorrebbero dettare la linea della guerra con l'elmetto, molti italiani dicono, bene, forse meno armi, forse meno rischi, forse meno avventure ci aiuteranno a impedire che questo conflitto vi flagri. Perché questo è il rischio più grande. Luca, telegrafico, ma siamo tutti pacifisti. No, tu non sei pacifista se dici che bisogna spiegargli che non capiscono. Gli italiani capiscono benissimo. In qualunque sondaggio sono i contrari alla linea del riempire di armi. Abbiamo detto armi difensive. Adesso siamo arrivati ai carri armati, ai razzi, agli aerecici. Che ci fai con queste armi? Le armi difensive sarebbero, non so, gli scudi. No, io sono, certo che sono pacifista, ritengo che la pace sia però una costruzione politica che si ottiene nel momento in cui si costringe Putin a trattare. Cioè, se togliamo le sanzioni e le armi, andiamo avanti così per l'eternità. Allora, però la domanda è, Lucio Caracciolo, bastano adesso le armi o bisogna continuare? Anche perché, ricordiamolo, l'Ucraina intanto viene armata dagli americani e dai britannici e addestrata dal 2014. E anche in queste settimane vengono fatti nuovi addestramenti per l'utilizzo di nuove armi più sofisticate, armi occidentali, eccetera. Quindi, insomma, diciamo che è in corso un riarmo dell'Ucraina massiccio. Sì, ma come tu dicevi giustamente, quello che è stato decisivo non è certamente quel poco che abbiamo mandato noi o quel quasi nulla che hanno mandato i tedeschi. È stato quello che dal 2014 al 2022 hanno mandato soprattutto americani e britannici e aggiungerei l'addestramento, perché mettere in campo centinaia di migliaia di soldati che fino a ieri facevano tutt'altro mestiere, evidentemente implica un addestramento professionale. Poi ci sono anche, magari, qualche contractore, qualche soldato americano vestito dall'Ucraino. Questo fa parte del gioco. Ma non è che quando c'è una guerra sospendiamo le armi. Le armi ci saranno. Bisogna politicamente trovare un compromesso perché le armi non sparino più. Però intanto continuiamo a mandare. Non puoi disarmare un contendente senza intervenire militarmente, no? Come fai a disarmare gli ucraini o i russi? Cioè, è impossibile. Dottoressa Pignatti. Devi trovare un compromesso. Non è questione di chi ha più armi. È questione di arrivare a un compromesso politico. Dottoressa Pignatti, poi ti ridò la parola anche Luca Telese. Scusami, se posso aggiungere una cosa? Se noi non avessimo messo quel poco, pochissimo, di armi che abbiamo messo, nessuno ci filerebbe. Cioè, per poter partecipare a un negoziato, devi evidentemente anche partecipare in qualche modo alla guerra. Ha capito, dottoressa Pignatti? Certamente non è vero. No, appunto. Ci sono paesi che si offrono come mediatori perché non contribuiscono dal punto di vista militare a sostenere una parte nel conflitto. Quindi questa è una questione di scelte. Quale? Per esempio? In questo momento la Turchia... Ma la Turchia l'ha armato fino ai denti gli ucraini. La Turchia l'ha armato fino ai denti gli ucraini. In questo momento questi paesi che si comportano e che si offrono come mediatori non hanno deciso in questo momento, da quando è scoppiata la guerra, di schierarsi militarmente a favore di una parte. Comunque in generale non era una scelta obbligata per poter avere una voce sui negoziati. Senza i droni turchi gli ucraini non andavano da nessuna parte. Sono stati decisivi i droni turchi. Poi i turchi sono bravissimi perché giocano 10 partite contemporaneamente. C'è sempre un piccolo dettaglio in questa discussione che mentre si fa il processo all'Occidente non si considera che Putin non ha risposto a telefono neanche al Papa, diciamo, e che in questo momento pare che non si faccia neanche... No, in questo momento però è di oggi la notizia che si sono parlati i due capi di Stato Maggiore, quello americano e quello russo, e ha chiamato quello statunitense. Non si sa però se fa lo scambio dei prigionieri, cioè non mi sembra un atteggiamento molto. Allora, Luca Telese e dottoressa Pignatti. E Luca, scusami, ti do la parola, ma voglio aggiungere anche una domanda che parte dal tuo nuovo libro. Perché siccome tu per Solferino, da oggi è nelle librerie e anche nelle edicole, questo libro dal titolo La scorta di Enrico, e hai toccato, hai osato raccontare un pezzetto di vita di Enrico Berlinguer, che era un mostro sacro, lo possiamo dire, e aggiungo come domanda, con chi si schiererebbe oggi uno come Enrico Berlinguer? Beh, vedi Lilli, proprio scrivendo questo libro sono rimasto colpito dalla forza di tutti i discorsi, compreso quello che doveva tenere, se non fosse morto a Padova due giorni dopo, i discorsi che Berlinguer fa contro la logica degli armamenti del più uno, sono di un'attualità incredibile. La corsa agli armamenti per Berlinguer era un pericolo enorme perché poteva innescare un conflitto nucleare. E la cosa che mi colpisce è l'attualità di come torna attuale tutto l'ultimo dibattito che lui fa. In fondo sta tornando il Novecento, tornano i carri, tornano le armi, tornano le grandi opzioni ideologiche, torna il nazionalismo e quindi c'è spazio anche per un discorso serio, non ideologico, di un pacifismo che si pone il tema di impedire che la guerra deflagri. Quindi io penso che Berlinguer, anche se è sempre sbagliato attribuire a chi non cede le opinioni, però se uno prende i discorsi di Berlinguer contro la corsa agli armamenti nel 1984, sembrerebbero perfetti anche per quello che sta accadendo oggi. Poi anche sulla Nato ha detto delle parole importanti, se ricordo bene. È famosissima la risposta a panza sul mi sentirei più sicuro dalla parte della Nato perché Berlinguer era, per il suo anelito in libertà, contro l'ortodossia sovietica, contro il patto di Varzavia e contro Bresne. Per questo nessuno deve avere il minimo di sospetto che ci sia una simpatia dovuta a sinistra per Putin. Ha ragione su questo Luca Telese Caracciolo. Cosa potrebbe imparare la sinistra italiana da un uomo come Enrico Berlinguer in un contesto come questo? Dubito che esista la sinistra italiana in questo momento, ma mettendo che esistesse potrebbe sicuramente imparare alcune lezioni di fondo come quella appunto che ci sentiamo più sicuri da questa parte piuttosto che dall'altra. Dall'altra parte peraltro ormai non ci sta quasi più nulla perché non c'è più un blocco ma c'è solamente una Russia che sta messa anche piuttosto male al suo interno. Quindi la partita è ancora più pericolosa perché il problema non è tanto la quantità di armi. Quelle ci sono. Io spero che si possa fare la pace anche per diminuire la quantità di armi. Il ragionamento contrario parte dal dover essere per arrivare all'estero. Invece dobbiamo partire dalle cose come sono e cercare di migliorarle. Se uno dice non vogliamo... Chi è che dice vogliamo le armi? Nessuno. Dobbiamo semplicemente fare una pace che ferirmi questa guerra il più possibile. Salvo diciamo i produttori, l'industria degli armamenti. Parlarmi prima è un po' irrealistico. No, voglio dare la parola alla dottoressa Pignatti, poi ricominciamo. Scusa Luca? No, dicevo non certo caracciolo, però anche qui dobbiamo usare una lente più raffinata. I falchi ci sono sia in Russia e sia nell'Occidente. Per tutta una fase del conflitto l'America ha visto come una bellissima fiera dove spendere, comprare, investire e provare nuovi armamenti in Ucraina sulla pelle del che muore. Quindi non è che sia proprio l'ideale. E infatti uno dei problemi che i russi hanno è che essendosi dimostrate piuttosto scarse le loro armi, loro che ne vendono parecchie nel mondo, adesso sono messi molto male. Dottoressa Pignatti e poi Alessandro De Angelis. Sì, io credo che Berlinguer, come ogni politico italiano che pensa a temi alti, si riferirebbe soprattutto alla minaccia della crisi alimentare che adesso pesa sul mondo intero. Noi cominciamo a sentire i timori di questa crisi alimentare in Medio Oriente, in Africa e noi sappiamo anche che per riuscire ad arrivare a una soluzione per lo sminamento del porto di Odessa, per la partenza dei carichi che consente di accumulare altri beni alimentari nei silos ucraini, bisogna arrivare al tavolo negoziale. Non si può negoziare solo lo sminamento dei porti senza che i russi accettino di sedersi a quel tavolo per discutere del resto. Quindi è di fondamentale importanza per il mondo concentrarsi su questo. Inoltre credo che Berlinguer penserebbe agli invisibili. Io penso adesso ai militari russi che stanno tornando dal fronte e me lo diceva poco prima un'operatrice che lavora con la stampa russa del dissenso. Sono i militari russi che tornano e sono proprio i testimoni delle violazioni dei diritti umani che vengono commesse in Ucraina. Tanti di loro non vogliono combattere e sono loro che stiamo uccidendo a migliaia in questa guerra. Ci sono gli obiettori di coscienza ucraini che non possono uscire dal paese che sono soggetti appunto alla coscrizione obbligatoria. Ci hanno scritto una coppia, giovanissima e chiudo con questo, una ragazza che è medico e per questo non può uscire perché anche per lei c'è il servizio obbligatorio e il suo fidanzato che è stato militare e che dopo aver fatto il servizio militare è uscito per problemi di coscienza e loro non possono uscire dal paese. Chiedono alla comunità internazionale che si faccia pressione sull'Ucraina per riconoscere il diritto all'obiezione di coscienza. I giuristi democratici li stanno sostenendo con un appello che vi invitiamo a firmare online. Allora, firmerai un appello di questo tipo Alessandro De Angelis o bisogna dare per scontato che quando un paese è in guerra i cittadini di questo Stato sono a disposizione, diciamo? Sì, certo. Una cosa su Berlinguer, me la consensi? Certo. Perché il libro, Luca scrive dei libri davvero molto belli sul PC e molto documentati che io li consiglio, ho iniziato a leggere, non ho avuto il tempo di finire. Ho molto rispetto per Enrico Berlinguer e quindi il giochetto di stiracchiare una sua posizione buttandola sull'oggi. Però tu ricordavi una frase cruciale, l'intervista a Gian Paolo Panza mi sento più sicuro sotto l'ombello della Nato. Quello è una politica che sa assumersi le sue responsabilità. Se Berlinguer avesse fatto un sondaggio nella base del PC probabilmente, diciamo, non sarebbe uscita la stessa opinione. Così come sul... Quella è una politica che si assume la sua responsabilità, che è pedagogica, che si assume l'oneve di guidare e di una politica come grande manovra in cui è nobile anche la parola compromesso. E' andato molto di moda il secondo Berlinguer, no? Quello della questione morale, della denuncia del sistema dei partiti anche perché poi il sistema dei partiti è caduto sulla questione morale anni dopo, no? Un'inchiesta, diciamo, di mani pulite. Io credo che vada riletto con molta attenzione il primo Berlinguer. Quello che nel solco della migliore tradizione comunista propone... Sì, però, sono due fasi. La stessa persona c'è una forte continuità tra il primo e il secondo Berlinguer. È un uomo che si interroga fuori dai blocchi, come sai, e contro la logica dei blocchi, su come si possa costruire il progresso e la democrazia. Amico mio... È una ricerca molto importante. Amico mio, hai il gusto della polemica anche quando siamo d'accordo? Amico, ho detto il primo, la discontentità... Sto dicendo che in quella fase, secondo me, è da approfondire nell'epoca in cui la parola compromesso, per esempio, viene vista come un inciucio. Compromesso, la politica è una parola bellissima. Questa, diciamo, la politica è l'arte del compromesso. Non c'è dubbio. È quello che dovranno fare i russi e gli ucraini. Ecco, Lucio Caracciolo, voglio chiederti. Intanto, l'obiezione di coscienza è consentita ai cittadini di uno Stato che è in guerra. Dovrebbe essere consentita? È consentita? Questa è la prima... È la questione che poneva la dottoressa Pignati. E la seconda, che cosa sta succedendo dietro le quinte di questa guerra in Ucraina sul fronte negoziale? Perché citavo prima che il capo di Stato maggiore americano ha chiamato il suo omologo russo oggi. L'obiezione di coscienza dipende dai paesi. Non c'è una legge universale. Poi ognuno può interpretare come vuole. E certamente in Ucraina e in Russia in questo momento non vanno di moda. Per quanto riguarda i contatti fra russi e americani sono comunque importanti perché qual è il punto? Siccome la guerra ha raggiunto un livello di altissimo rischio russi e americani non vogliono evidentemente arrivare a una guerra aperta fra di loro, anche se devo dire che negli ultimi tempi gli americani qualche passo in avanti l'hanno fatto ammazzando un sacco di generali e affondando una nave russa. Però non vogliono arrivare a mettere in pericolo la sicurezza nazionale scatenando una guerra fra Russia e America. Quindi è una questione tecnica ma come tutte le questioni tecniche ha dei risvolti politici perché nel momento in cui cominciano a parlarsi i primi ministri della difesa Austin, Shoigu e adesso Gerasimov il capo di stato maggiore russo che era scomparso dalla circolazione con Milley il capo delle forze armate americane è comunque un segno importante e positivo. L'obiezione di coscienza è la carta di identità di tutta la sinistra nella storia contro la guerra del Vietnam, Oliver Stone contro adesso i pacifisti russi che hanno sfidato Putin la Yosannikova che aveva un cartello dicendo soldato getta il tuo fucile e stiamo scherzando l'obiezione di coscienza è la carta di identità capisco che siamo tutti un po' al metati però adesso De Angelis vuole togliere anche il diritto all'obiezione di coscienza uno che deve andare a combattere con la Zoff ma che scherziamo? No, De Angelis per la verità non vuole togliere niente però questo dimattito adesso non lo apro per chi vi voglio far vedere il punto di Paolo Pagliaro perché intanto c'è un ritorno alla normalità dopo gli anni più duri della pandemia guardate il British Medical Journal ci aveva avvertiti la fine della pandemia intesa come fenomeno sociologico non verrà annunciata in tv ma sarà graduale e naturale e si annuncerà da sola con la ripresa delle normali attività il momento sembra arrivato se è vero che domani nella piana di Trento è in agenda il primo concerto live di Vasco Rossi e oggi ha aperto le porte a migliaia di visitatori il Salone del Libro di Torino due grandi appuntamenti popolari che il bienio del coronavirus aveva cancellato o ridimensionato a Torino il villaggio del Salone visitabile fino a lunedì non è mai stato così grande 110.000 metri quadrati 893 case editrici 1500 appuntamenti per l'editoria italiana un'occasione di riscatto o perlomeno di riduzione del danno dopo i 2 miliardi di euro e 13.000 posti di lavoro persi nel 2021 a causa non della pandemia ma della pirateria secondo le stime dell'Ipsos l'anno scorso hanno fotocopiato illegalmente almeno un libro o un contenuto digitale l'81% degli studenti universitari e il 56% dei professionisti soprattutto avvocati notai, commercialisti e ingegneri Torino è l'occasione per restituire un po' del mal tolto è già in corso con le prove generali anche l'altro grande appuntamento quello con Vasco Rossi che domani sera a Trento apre la stagione dei concerti live i biglietti venduti sono 120.000 sono state prese imponenti misure di sicurezza la gestione dei flussi di pubblico sarà affidata a un sistema predittivo basato sui segnali dei telefonini un'applicazione pacifica del meccanismo con cui come abbiamo letto gli ucraini tengono sotto controllo gli spostamenti delle truppe russe e viceversa allora siamo in chiusura Luca Telese guarda che sia Caracciolo che De Angelis dicono che non c'entra niente l'obiezione di coscienza con la sinistra ma questo sarà dibattito di un'altra puntata grazie grazie Luca Telese ricordo invece il tuo nuovo libro che troviamo da oggi nelle librerie nelle edicole che si intitola La scorta di Enrico Berlinguer e i suoi uomini una storia di popolo pubblicato da Solferino grazie dottoressa Pignatti e buon lavoro grazie Alessandro De Angelis grazie Lucio Caracciolo e ricordo l'ultimo numero di Limes che si intitola Il caso Putin e grazie spettatrici spettatori linea Corrado Formiglia su Piazza Pulita quindi state con noi e noi come sempre ci vediamo domani in otto e mezzo arrivederci Grazie 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 Grazie